Ora parliamo di noi, parliamo del nostro territorio. Siamo città fatte di pietre e di cittadini, dove le prime rimangono ma i secondi spariscono. E pietre senza le persone sono inutili. E le pietre senza le persone sono inutili e diventano brutte. E' per questo che ci stiamo impegnando affinché le aziende restino per fare rimanere le persone e per non perdere la nostra identità. Questo è il motivo per cui, come ripeto spesso, dobbiamo tirare la corda tutti dalla stessa parte. Comune, Regione, Governo prendono pure le loro posizioni politiche, ma poi ci facciano i conti con la realtà che viviamo. Per questo abbiamo avviato un progetto di snellimento burocratico relativo agli sportelli unici per attività produttive, inserito nel progetto di Confindustria Quicknet, con l'obiettivo di superare le reciproche incompressioni e di produrre risultati concreti e verificabili. Enrico, Pierpaolo, Luca, Luigi, dobbiamo lavorare insieme perché non abbiamo alternativa. Se parliamo di appetibilità di un territorio, non possiamo prescindere dal considerare gli asset infrastrutturali di cui gode, iniziando da Ovest, dove il Polesine lotta da anni per ottenere la risoluzione del problema della Romea. Un investimento porterebbe un vantaggio immediato e quantificabile a tutto il tessuto produttivo locale. Noi imprenditori chiediamo all'autorità preposta che intervenga tempestivamente affinché, una volta per tutte, venga rimosso questo collo di bottiglia assurdo. Anche in Polesine, come altri distretti della città metropolitana, si sta vivendo un enorme disagio. Ai tempi dell'era digitale avanzata, intere aree industriali sono ancora senza banda larga. Bisogna intervenire tempestivamente. Per tornare a destra, permettetemi di parlare dell'importanza sempre più strategica che riveste l'aeroporto di Tessera. Oggi il terzo scalo italiano, che nonostante le battaglie che in passato il nostro collega Enrico Marchi ha dovuto combattere contro l'amministrazione comunale, ha visto premiare le proprie strategie di sviluppo. La centralità dell'aeroporto e dei corridoi logistici paneuropei devono essere il motore da accendere per creare sviluppo ed occupazione. Sarebbe sciocco non approfittarne. E questo l'ha capito bene il sindaco della città metropolitana, Luigi Brugnaro. Siamo fiscali e attenti nell'interesse dei nostri associati, ma quando vediamo il merito lo riconosciamo. Luigi, abbiamo apprezzato molto la tua apertura verso SAVE. Non è da tutti i sindaci chiedere scusa a nome di una città. Ci auspicchiamo anche che il futuro porti la stessa città metropolitana a dover richiedere una seconda pista d'atterraggio. Il turismo nella nostra città è la prima industria, con oltre 22 milioni di arrivi all'anno. Sono auspicabili specializzazioni per tematiche legate alle vocazioni di ogni singola destinazione. La chiave dello sviluppo turistico in città sta nella distribuzione dei flussi sparsi su 12 mesi e sul territorio, che però vada oltre i confini della città metropolitana. L'obiettivo da raggiungere è quello di avere più visitatori meglio distribuiti, che possano apprezzare tutte le nostre meraviglie, dal Polesi nel porto curarese, dal lago di Garda alle Dolomiti. Soprattutto perché le previsioni da qui a 2025 indicano un aumento vertiginoso dei flussi turistici. Per passare ad altro tema, non possiamo non parlare del comparto del vetro di Murano. Le imprese manifatturiere attiva Murano sono oltre 260. Negli ultimi sei anni quelle che hanno cessato le attività sono 125. Allo stato attuale 17 sono in procedura concorsuale. Le aziende veneziane del settore, per colpa di una mancata notifica dello Stato alla comunità europea, hanno restituito un importo di più di 36 milioni di euro, che rischia di salire a 70 milioni se dovranno restituire anche gli interessi composti. Murano, l'isola che c'è, ma fino a quando? Mille anni di storia rischiano l'estinzione, l'incredibile vicenda della restituzione degli sgravi contributivi, la delicatezza della situazione ambientale, la concorrenza sleale, stanno spegnendo i nostri forni. Non chiediamo privilegi, ma solo di poter lavorare e produrre a pari condizioni. Ora chiediamo che non vengano fossate le poche aziende rimaste. Murano è una perla nella perla, per la quale salvaguardia chiediamo l'apertura di una zona franca urbana, un minor costo dell'energia e protezione contro la concorrenza sleale. Ad incidere sul futuro dell'isola di anche tutta la partita di vincoli ambientali, inerenti le quali emissioni, Confindustria insieme alle aziende, ha messo a punto una concreta proposta per il monitoraggio e l'abbattimento. Su questo fronte, come su altre importanti partite, cruciale è il ruolo che potrà avere il piano strategico della città metropolitana, alla cui realizzazione collaborano tutte le categorie economiche e che identifica, tra gli altri temi, il punto franco doganale del porto di Venezia, come uno dei suoi principali cardini. Queste, invece il Ministro Zanetti e il Sottosegretario Baretta, sono le richieste che tramite Damus Zanardo, nostro delegato ai rapporti con la città metropolitana, le categorie economiche veneziane, sollecitiamo il Governo. Per quanto concerne Porto Marghera, Confindustria a Venezia ha ben chiaro a cosa serve il suo rilancio. Qui ci troviamo di fronte a una situazione paradossale. A poche decine di metri da qui ci sono ettari di aree dismesse che potrebbero diventare una grande risorsa non solo per Venezia, ma per tutto il Paese. Stiamo parlando di una delle più grandi aree portuali industriali europee di sempre, 1450 ettari, a cui vanno aggiunti 660 ettari di canali, strade, ferrovie e altre servitù. Però siamo fermi. Serve una maggiore attenzione da parte del Governo, del Comune e della Regione. È purtroppo triste constatare come le condizioni attuali, salvo casi particolari, Marghera non possa essere considerata competitiva rispetto ad altri territori. Lo abbiamo sottolineato più volte pubblicamente ed in tutti i tavoli, rappresentando un programma da sviluppare in modo coordinato sotto l'egita di una cabina di regia. Presidente Zaia, caro Luca, ti ringrazio per aver riaperto il tavolo di confronto con tutti gli attori e, nonostante le difficoltà relative alla governance di questa cabina, sono sicuro riuscirà a trasformarlo nel giusto strumento operativo che avrà la necessaria autonomia decisionale. Noi proponiamo un programma di lavoro che serva a creare le basi per lo sviluppo e su quello ci aspettiamo risposte. È necessario completare i marginamenti e le opere di drenaggio per dare finalmente avvio alla bonifica della falda e risolvere i problemi di sicurezza idraulica del territorio. Le nostre proposte sono chiare e note a tutte le amministrazioni bisogna avere il coraggio di cambiare passo.